Altra protesta degli attivisti di ultima generazione. Questa volta, ieri sera a Santa Cecilia, durante l'esecuzione del Messia di Handel diretto da John Nelson. Mentre uno di loro riprendeva la scena, tre giovani sono saliti sul palco e si sono seduti accanto al podio del direttore e ai cantanti. L'esecuzione è andata avanti mentre interveniva il personale della sala per allontanarli, nonostante la loro resistenza passiva. I manifestanti indossavano magliette con scritte diverse, le note della catastrofe, lo spettacolo non può continuare, Fondo riparazione ora. Il Blitz, l'auditorium parco della musica di Roma, è scattato al momento dell'alleluia. Tre attivisti sono saliti sul palco per portare un grido di allarme. Questo non è un Natale di gioia. L'umanità ha aperto le porte dell'inferno come denunciato dal segretario generale dell'ONU, hanno detto sedendosi ai piedi di John Nelson, direttore d'orchestra. Incatenati con delle fascette sull'appoggio del direttore, gli attivisti sono stati lì accanto ai coristi che hanno continuato a cantare. I musicisti hanno continuato a suonare fino alla fine dell'atto. Dal pubblico sono poi partiti fischi, anche se per dovere di cronaca va detto che c'è stato anche qualche applauso.